Adesso picchiamo subito Mi sa Di solito è così Che picchiamo subito forte Cattivi Ok E infatti Ci sono le zone da depurare Eccole qua Però c'è il livello è alto Ok Questo è andato Che bella era la mossa 27 Vabbè ma ti sei trasformato Stunnato Ok ammazzato Yes Ok zona è chiusa Quindi non possiamo andare in giro a caso Forse abbiamo l'ultimo Perché c'ha l'occhio quello Ah ci stai curando Si però cura Livello 27 Vai andrà dentro Guarda che posto stupido Porca miseria Devo mangiare Vai Tora Ok cura No questa esperienza Eh ok Adesso però non riesco a tradurreli Siete troppo veloci Enara sensei Ok torniamo da Enra sensei Abbiamo finito Oh aspetta 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 Enra sensei Abbiamo ammazzato i serpenti Conosci il delinquente fiscale Eh È così Sì a Mataro qua Gli puzza un po' Alla fine ho risolto Tutti i misteri L'insegnante Erra Dopo tutto eri la criminale Eh vedi vedi E c'è Mataro Cosa stai dicendo Erra sensei È solo una donna anziana Che senso Junpei Non sono cose da dire Mi ha fatto a scoprirlo Ma è detto solo perché Mi piacciono le persone Sono andato da scuola L'amore è una mozione incerta È innaturale Dire che è una maledizione Dai traduci Dai traduci Quindi il colpevole è in qualche modo Può sapere che qualcuno si è innamorato È il criminale innamorato Si trasformato in una besta demoniaca serpente È come se stessi dando una punizione È di stagione no? Con Hong Kong Tradutto proprio così Questa linea Detective Conan Super Detective Cos'è quello? Ah! Eccolo lì Oddio 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 È un popolare anime poliziasco per i giovani Ma Sicuramente c'è un detective Conan Che dorme dentro di lui Mi sono svegliata con qualcosa Ma non si può fare una roba del genere Il criminale sa Che sta aspettando il suo amore Leggi sempre nel cuore Di tutti gli studente Ma perché si sta spezzando la schiena in due? Ma che faccia fai? Bauer È ubriaco Matare ubriaco Il criminale la... Dai Perché l'hai tolta la traduzione? Una persona che può facilmente conoscere Ha già capito Insignante Enra Se ne va Hai rotto Matare ubriaco Allora andiamo a Kona o Kuku Per scoprire la verità Studenti che si innamorano a causa del diveto dell'amore Soffrivo per la sensazione di non sapere dove andare Ma in quella... Ma in questa scuola si chiama Erra Sensei C'è uno... C'è un salvatore Perché sono un professionista da chiami libri? Le ragazze si sarebbero consultate Ma in che senso? Voglio parlare con gli studenti Aggiungi una stella come candidato romantico Se confessi trasformerà in un serpente Una strana tecnica Va bene Sempre le stesse cose dite però Giusto? Perché un insegnante che dovrebbe essere un professionista del romanticismo Ama un libro che ami? Ma cosa vuol dire? Non so chi sei Prima di tutto non so chi sei Eccola lì Lei ride Ha detto la verità Sensei Sei ossessionato da qualcosa? Il ragazzo con una forte vita è un paese Chiarissimo Tutti insieme sembra che tu debba punire chi tu hai Eccola lì Enra Sensei Prato E la trasformazione di Enra Sensei E qua ci scanna Se la medusa tradizionale è un tradimento d'amore è lacerato e trasformato in un demone Quindi Ma stai a guardarci mentre parliamo Era una medusa così malvagia E' diverso Jinbei Sono sicuro che l'insegnante è ossessionato da Midown Stanno manipolando Attenzione Fugo Fugo Rispondi Fino ad ora questa donna sono venuto per nasconderlo Ma mi sono fermato Ma Enra non lo sa sta roba qui Uma Umani Persone che hanno un desiderio Noi le distruggiamo Vabbè dice Lascia Enra Sensei Liberala Jinbei Datte una sveglia Ma scusa ma Kyuubi Si stanno volando Ok adesso si combatte Si combatte grosso eh Eh però aspetta aspetta Ok io mi trasformo Inizio e picchiamo SP Ah mi sa che fa malissimo Oh Dovevo già curar Ah metà vita Stunnata Dai Ok Mi sono voluto curare Già un'altra volta Secondo me Si trasforma dopo Abbiamo creato la zona per curarci Spostati Adesso scoppia Adesso scoppia Ok Chi è che è morto? Dai curiamoli 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 No 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 Mangia Mangia Dai 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 Datti una sveglia Non è che li Li salviamo tutti Oddio 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 Dai picchiatela un po' a voi Ok easy Easy Si level up Però fammi prendere tutto Prima che mi spariscono Gli oggetti Ok Comunque la scopa è devastante È troppo forte la scopa Ok Missione completata Adesso Soprì Ora La scopa è Io